Ti presento la mia famiglia. Abbiamo sentito tanto parlare di te. Devi aprire i tuoi regali. Mi sono tagliata. Qualcuno ha ordinato cinese? Dai ragazzi che non digeriscono più i film sui vampiri, arriva la storia di una ragazza alla ricerca dell'amore. Chi sceglierai? Me? O lui? Godetevi lo sballo. Non capisci? Io sono un killer! Andate fuori di testa. Ho trovato una più sciroccata di me. Lady Gaga? È troppo, dici. Il 10 settembre inizia la battaglia. Più grosso è il successo, più grande è il piacere. Sai chi siamo, vero? Siete i Black Eyed Peas. Perché tutti ci scambiano sempre per i Black Eyed Peas? Jacob, scappa! Un chihuahua? Edward? Dove? Edward, ti amiamo, sei il massimo. E' Jacob il più piccolo. Mordimi. Dal 10 settembre al cinema.